Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. La famosissima cantante ha comprato una casa con una cifra da capogiro. Ecco di chi si tratta e di che tipologia di casa stiamo parlando. Resterete senza parole. La cantante britannica pluripremiata vincitrice di un Grammy come miglior artista esordiente e come migliore interpretazione femminile pop nonché un Oscar come miglior colonna sonora per il film di 007 Skyfall ha acquistato una villa ad una cifra da capogiro. Avete capito di chi stiamo parlando? Adele, artista mondiale con allo storico dischi e singoli pluripremiati ha deciso di acquistare la villa di Sylvester a stallone per 58 milioni di dollari arrivando a firmare per un mutuo da 38 milioni circa e pagando la modica cifra mensile di 227. 000 dollari, i acquisto della villa lussuosissima è stato fatto insieme al compagno Ricky Hall conosciuto per essere uno dei procuratori più influenti e famosi nel mondo dello sport americano. Fra i suoi assististi, Anthony Davis dei Lakers, Ben Simmons dei Philadelphia 76 e RS, Draymond Green dei Golden State Warriors, Lonzo Ball dei Chicago Bulls e ovviamente LeBron James che gli ha permesso di arrivare dove è arrivato. Ma torniamo alla villa. Ecco tutte le caratteristiche, Adele e Richie Hall, la mega villa da 58 milioni di dollari. La lussuosa casa è situata nell'esclusivo quartiere di North Beverly Park a Los Angeles e comprende 8 camere da letto e 12 bagni. Ed era la vecchia residenza di Sylvester Stallone, la proprietà acquistata da Adele e dal compagno si estende su più di 14 mila metri quadrati totali, dispone al suo interno di un primo piano comprensivo di due bagni di servizio, una sala da pranzo signorile, una grande cucina, una sala per la colazione, oltre che bagno turco e ufficio. La villa dispone anche di ulteriori servizi come cinema, palestra e cigar room per fumare al chiuso. Per quanto riguarda gli esterni non può assolutamente mancare un grande patio con una piscina a sfioro, una spa, un garage, con 8 posti auto e climatizzato e anche uno studio d'arte. Come ulteriore extra, la casa dispone di una guest house a due piani con due camere da letto, bagno privato e una cucina completa. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!